Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Nell'ambito delle indagini che hanno portato al blitz antidroga dei carabinieri di Maddaloni, la squadra mobile della questura di Caserta e gli agenti locale commissariato hanno anche fatto luce sull'omicidio di uno spacciatore Daniele Panipucci, vittima di un agguato il 26 maggio del 2016 a Maddaloni e deceduto in ospedale il successivo 3 giugno. Un omicidio maturato nell'ambito di contrasti nell'attività di spaccio della droga Panipucci venne ferito gravemente con un colpo d'arma da fuoco al viso. La polizia ha arrestato i tre componenti, il commando uno dei quali in collaborazione con i carabinieri in un video diffuso dalla questura di Caserta si notano i killer mentre si preparano all'azione in una sala a biliardo. Agli indagati viene contestato il reato di omicidio e anche quello di associazione a delinquere di tipo mafioso per essere affiliati alla fazione di Maddaloni del clan Belforte. Spacciavano in un complesso di edilizia popolare di Maddaloni anche davanti a bambini che giocavano i pusher arrestati all'alba dai carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 indagati, trafficanti e spacciatori ritenuti legati alla locale fazione del clan Belforte di Marcianise. Tra le persone arrestate anche Maria Antonietta, mandato madre di tre pusher che aiutava i figli tagliando e confezionando le dose in casa, presi da militari anche i suoi tre figli per spaccio di droga. Le misure cautelari sono state emesse dal Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Estettuale Antimafia che ha coordinato il blitz dei militari di Maddaloni. La vendita della droga, cocaina, ascice e marijuana avveniva in una piazza a dispaccio di Maddaloni allestita nelle palazzine di via Matilde Serau. I reati contestati sono traffico e spaccio di sostanze stupefacenti aggravati dal metodo mafioso. Scoperto dai carabinieri di Casoria un vero e proprio arsenale. Mitraiatori Kalashnikov, fucili, pistole, cartucce e giubbotti antiproiettile. Un vero e proprio arsenale trasportato in un furgone è stato scoperto dai carabinieri dell'aliquota radiomobili della compagnia di Casoria durante un posto di controllo in via Pietronenni. I militari si sono insospettiti alla vista di un furgone che aveva rallentato per cercare una strada alternativa ed evitare la pattuglia. I carabinieri hanno intimato l'altima e il conducente ha accelerato dandosi alla fuga. È stato inseguito fin quando in via Salerno ha abbandonato il veicolo fuggendo a piedi nelle campagne. Gli accertamenti sul furgone hanno permesso di appurare che era stato rubato a Orta di Atella, in provincia di Caserta, nel dicembre del 2016. Ispezionando poi il vano di carico e il rinvenimento, c'erano tre borsoni in tessuto mimetico, nei quali venivano trasportate una mitraglietta Uzi, due fucili mitragliettori Kalashnikov, una semi-automatica con matricola brasa, un fucile a pompa, quattro giubbotti antiproiettile, 60 cartucce per Kalashnikov e una quarantina di cartucce 9x21 e 3 calibro 12. Ritrovamento di droga singolare a pomigliano d'arco nell'accendino di un 29enne. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe potuto nascondere nell'accendino fino a 10 dosi. Il 29enne è stato bloccato mentre cedeva due dosi dello stupefacente a un 31enne di Casalnuovo che successivamente è stato segnalato alla prefettura. L'uomo è stato condotto nella sua abitazione agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per il rito direttissimo. Cambio al vertice in prefettura, dialogo e ascolto sono le linee guida del neoprefetto di Napoli, Carmela Pagano. Per affrontare la questione migranti è un tema che ha toccato con mano in prima persona visto che prima di arrivare nel capoluogo campano è stata per un anno e sette mesi prefetto di Bari. Secondo il prefetto, sul tema dell'immigrazione occorre applicare misure con equilibrio, con la piena condivisione da parte dei sindaci, con una certa flessibilità e tenendo conto della peculiarità dei territori. Arrivando in una città come Napoli, forte anche delle precedenti esperienze, ultima delle quali a Bari il neoprefetto Carmela Pagano, incontrando i giornalisti ha sottolineato la necessità di puntare sulla sicurezza integrata per affrontare uno dei maggiori problemi delle grandi città. In primo piano, ha detto nel corso del suo primo incontro, va posto il rapporto con i sindaci. Sul tema della videosorveglianza in particolare in alcuni quartieri a rischio, come quello della sanità, ha evidenziato che si tratta di una priorità che già sono state adottate iniziative per superare defiance. Si tratta di un impegno importante e decisivo. Sempre centrale dovrà essere il rapporto con i sindaci nel governo del territorio, ha ancora affermato e il prefetto ha annunciato la volontà di conoscere direttamente i problemi delle singole zone della città e della provincia. Il fatto che ci sia una complessità non è assolutamente un fatto che non mettevo in conto, ma il mio principio è che la realtà è complessa in generale, non è che possiamo parlare di complessità soltanto per Napoli. Certamente ha delle peculiarità la complessità di Napoli e sicuramente richiederà delle strategie adeguate che sono in parte già in atto e che possono essere costantemente perfezionate, privilegiando anche, ripeto, l'ascolto delle istituzioni, la condivisione di obiettivi e l'ascolto anche della società civile. Lei crede nel dialogo? Assolutamente. Basterà? Deve bastare, non vedo altra via per arrivare a dei risultati. Il metodo del dialogo è quello che consente proprio di arrivare a condividere e quindi è una premessa necessaria per poter fare poi delle cose utili. Spari in un garage a Napoli sabato sera due feriti in ospedale. Si chiamano Francesco e Antonio Comune, padre e figlio, rispettivamente 40 e 24 anni, le due persone ferite sabato sera nel rione Sanità di Napoli. Francesco, che ha vecchi precedenti di polizia per reati connessi alle armi e alla droga, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco alla gamba sinistra e i medici li hanno anche diagnosticato la frattura del femore. Ad Antonio, invece, i sanitari hanno rilevato una ferita all'ascella sinistra con foro di entrata ed uscita. Secondo quanto finora accertato dalla polizia, i due stavano all'esterno dell'auto rimessa quando sono giunte due persone con il volto coperto in sella ad uno scooter. Il passeggero armato di pistola è sceso dal mezzo e si è diretto verso Francesco per sparare. Antonio si è interposto tra l'aggressore e il padre ed è stato colpito, fortunatamente, in maniera non grave. Si chiama Soresa per tutti, il progetto che nasce dalla convenzione tra la Soresa e l'Università Federico II di Napoli. L'obiettivo di quello che è stato definito un piano per la trasparenza è puntare a un modello innovativo di trasparenza nella pubblica amministrazione. La Soresa è la società strumentale della regione Campania, è la centrale unica di acquisti dei prodotti destinati alle aziende del sistema sanitario regionale e alla realizzazione del ripiano del debito maturato negli anni passati. Il progetto è stato presentato a Napoli, presente anche il presidente dell'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone. Si chiama Soresa per tutti, il progetto che nasce dalla convenzione tra la Soresa e l'Università Federico II di Napoli. L'obiettivo di quello che è stato definito un piano per la trasparenza è puntare a un modello innovativo di trasparenza nella pubblica amministrazione. La Soresa è la società strumentale della regione Campania, è la centrale unica di acquisti dei prodotti destinati alle aziende del sistema sanitario regionale e la realizzazione del ripiano del debito maturato negli anni passati. Il progetto è stato presentato a Napoli alla presenza del presidente dell'autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone. La trasparenza è veramente un antidoto utile, efficace per la corruzione e poi ovviamente c'è l'altro tema che la sanità è uno degli ambiti nei quali purtroppo la corruzione la fa da padrona. Quindi riuscire a lavorare sulla trasparenza significa mettere in campo un meccanismo di prevenzione della corruzione che può dare risultati. Dobbiamo poi verificare in concreto come decliniamo questa attività perché le società pubbliche, soprattutto queste società molto grandi, sono quelle nelle quali ci sono i rischi maggiori. Giovanni Porcelli, presidente della Soresa, ha evidenziato che a partire da questo progetto tutti potranno vedere come vengono spesi i soldi. Dato che Soresa effettua gara di appalto per la regione Campania, in questo momento siamo impegnati a fare gare per miliardi di euro, è giusto prestarsi a questa sperimentazione unica nel suo genere e ahimè anche molto complessa e complicata, però quando ci è stato proposto di farla noi abbiamo subito accettato perché pensiamo che in una nazione dove spesso si sbandiera il vessillo della trasparenza c'è bisogno di atti concreti e noi oggi cominciamo a fare un atto concreto in questo senso qua. A spiegare gli obiettivi del progetto Ferdinando Pinto, ordinario di diritto amministrativo del Dipartimento di giurisprudenza della Facoltà Federico II di Napoli. Un ecografo di ultima generazione è in dotazione al reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Cardarelli di Napoli. L'apparecchiatura inaugurata nel corso di una cerimonia è stata acquistata dalla Diocesi di Napoli con i fondi raccolti nell'asta di beneficenza effettuata in collaborazione con la RAI nel 2016. Ero malato e siete venuti a trovarmi nella giornata in cui la Chiesa Cattolica celebra il malato in occasione della festa liturgica della Madonna di Lourdes, l'arcivescovo metropolita di Napoli, il cardinale Crescenzo Seppe, ha fatto visita agli ammalati al personale sanitario dell'ospedale Cardarelli. Accompagnato dal direttore generale Ciro Verdoliva, alla presenza del governatore della Campania Vincenzo De Luca, il pastore si è arrecato nel pronto soccorso e nei reparti di chirurgia d'urgenza, neurochirurgia, neurologia, terapia intensiva coronarica, e infine nella terapia intensiva neonatale dove è beneditto il nuovo ecografo di alta fascia acquistato con i proventi dell'asta di beneficenza che si è svolta nel periodo di Natale. Io mi sono 50 anni che sono prete, non ho mai fatto un battesimo così commovente come oggi, perché superando tutte le norme liturgiche eccetera, ecco l'acqua, col dito, ho bagnato il dito, ho bagnato la fronte e l'ho battezzata. E qui, ecco, è in un'anima bella, angelica, come un bambino, questa grazia di Dio certamente, certo non si sostituisce ai medici, ma certamente è un aiuto perché il Signore ama i bambini, ama i bambini sofferenti, ama soprattutto questi bambini che vivono una condizione particolare. La giornata si è conclusa con la celebrazione della messa insieme ai cappellani dell'ospedale, ai ministri straordinari dell'Eucaristia e ai laici cammigliani, durante la quale è stata beneditta la statua di San Camillo dell'Ellis, fondatore dell'Ordine, che ha come sua vocazione la cura delle persone malate. Il governatore della campagna, Vincenzo De Luca, rifacendosi ai recenti fatti di cronaca, ha ribadito l'impegno degli operatori della sanità, spesso in situazioni critiche dovute alla scarsezza dei fondi. Io sono nettamente contro lo sciacallaggio e l'idiozia. In qualunque ospedale del mondo ci sarà sempre qualcuno che per un quarto d'ora sarà accolto in una barella quando arrivano in un reparto di pronto soccorso migliaia di persone. In città la commissione d'inchiesta per le periferie, seconda tappa la delegazione dei parlamentari in visita a Scampia. Dalla contemporaneità di Scampia alla storicità del rione Sanità, i componenti della commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie si sono recati in queste zone di Napoli per esaminare le realtà che si vivono. Prima tappa l'istituto alberghiero Vittorio Veneto di via Labriola a Scampia, istituto scolastico di eccellenza che raccoglie numerosi giovani dell'area nord della città e del suo Interland. Andrea Causin, presidente della commissione, ha commentato il decreto che aumenta i poteri dei sindaci in materia di sicurezza. Più che di ampliamento dei poteri dei sindaci, io penso che sia utile avere una nuova legislazione che consenta rispetto delle regole. Per esempio, quando si occupa una casa abusivamente, la stessa trae a chi ne ha diritto. Quando si danneggia il verde pubblico o il bene pubblico o il bene privato, lo si danneggia a scapito della comunità. E credo che, insomma, non sia la stessa cosa chi ha rispetto delle regole e chi non ce l'ha. Quindi bisogna attraverso giudici di pace, la magistratura, le forze dell'ordine, ristabilire anche un principio d'ordine, perché la sicurezza e la libertà dei cittadini sono un diritto costituzionale fondamentale. Bisogna guardare non solo alle persone cattive, ma bisogna guardare alle brave persone che sono quelle di più e che chiedono che le regole siano rispettate. Nelle zone periferiche di Napoli e d'Italia, molto è compiuto dalla società civile e dall'associazionismo. Ascoltiamo Ciro Froncillo, presidente Avog. Sono stati fatti tre giorni dai presidenti regionali del Sud. Sono stati posti i problemi dell'occupazione, i problemi necessari a dare una situazione forte ai giovani che sono abbandonati e non hanno lavoro. In più, la Chiesa l'altro giorno ha ripreso questo argomento a fianco a questa necessità. Noi la riprenderemo anche oggi. Quando il presidente della regione dice 200.000 posti nel pubblico impiego perché è obsoleto, è fuori dal turnover, è una serie di cose, dando 900 euro al mese ai giovani del quartiero, ai giovani di tutta la città e tutta la regione, noi riteniamo che questa sia una proposta valida che tenderemo a portare alla Commissione, ma tenderemo a portarle anche da questo mene in poi in tutta la città e in tutta la nazione. Olimpia Pasolini, dirigente dell'Istituto Vittorio Veneto, si è soffermata sull'impegno della scuola sul territorio. E' proprio a due passi dalle vele che tutti ormai conoscono come il simbolo di questo quartiere particolare, in cui noi operiamo quotidianamente per costruire competenze professionali per i nostri studenti, convinti che solo con il lavoro e con l'esempio al lavoro, gli studenti possono allontanarsi da quelli che sono gli aspetti ormai famosissimi e conosciutissimi della malavita locale. Pane da libro di successo a fiction da record di ascolti, sempre nel nome dell'autore Maurizio De Giovanni. Presso la saletta La Clessidra dell'Istituto Scolastico RK di Napoli, presentazione del libro Pane per i bastardi di Pizzo Falcone, da cui è stata tratta la fiction di successo di Maurizio De Giovanni. Con l'autore sono intervenuti Armando Corsi, Gino Giaculli, Aldo Putignano, a moderare Laura Russo Krauss. Il raccontare personaggi con il cuore li rende veri e quindi interessanti per il pubblico, di cui il successo di fiction e libri. La fiction non è mia, ma è di un gruppo straordinario di professionisti, primariamente un regista, tantissimi attori bravissimi, una produzione che ha fatto un lavoro straordinario e soprattutto il merito della città che si propone in tutta la sua bellezza fantastica, come sempre fa quando viene vista e fotografata nella maniera giusta. Per quanto riguarda i libri, magari ci fosse un segreto, se ci fosse un segreto esisterebbe un solo libro. Invece io credo che nei miei libri, forse se ho merito, vogliamo trovare c'è l'affetto nei confronti dei personaggi, una grande partecipazione affettiva che il lettore sente, perché il lettore sente sempre prima dello scrittore quello che c'è da trovare nei libri. In questo libro Pane tu li senti più vicini? Questo libro Pane è un percorso che va consolidandosi dei passati di Pizzo Falcone che nella quinta puntata arrivano a farsi capire meglio, a essere più conoscibili, sia dallo scrittore che dai lettori. Quindi è logico che ogni libro trovi personaggi più consolidati del libro precedente. Sappiamo che è una sfida difficilissima, ma noi dobbiamo affrontarla con la nostra personalità e il nostro gioco soltanto così possiamo crederci. Lo ha detto Pepe Reina in un'intervista a 48 ore dalla sfida del Napoli in casa della Real Madrid nell'andata degli ottavi di Champions League. Intanto sale la febbre tra i tifosi partenopei. Insigne Cristiano Ronaldo. Dopodomani sera la partita dell'anno per il Napoli e per i tifosi del Napoli. La partita veramente dell'anno. Speriamo che vinca il migliore. Apro e chiudo parentesi il Napoli. Anche se sarà difficile perché in 180 minuti può accadere di tutto. Loro hanno un'abitudine più a vincere. Noi siamo forse l'outsider di lusso. Speriamo che restiamo tale. Speriamo che facciamo questo salto in avanti che ci faccia entrare nell'Olimpo delle grandi squadre europee. Questa statua di Cristiano Ronaldo all'altezza naturale pensi di consegnargliela magari quando verrà a Napoli? Io ho saputo che sarà a pochi passi da qui con l'albergo quindi può essere pure che loro incuriositi verranno a farsi una passeggiata a San Gregorio Armeno. Perché no? E se casomai la volesse veramente sarebbe un onore per noi potergla omaggiare. 2-0 per il Napoli. Chi segna? Insigne. Tutti e due li fa. Secondo lei come finisce? Io pure dico 2-0 per il Napoli. 2-0. Perché siamo più forti. Pronostici io non ne sono abituato a dare però sono convinto che il Napoli farà una grande partita ed sarà bella da vedere perché pure sappiamo come gioca il Napoli di Sarri e sarà bello da vedere. Per me l'impresa la può fare, davvero. La tifosa il Napoli vincerà perché sono sicura che Mertens farà un buon lavoro anche ambasì, che vabbè è tutta la squadra alla fine. Lui cibo dei campioni è meglio tutto quanto ora teniamo tre centri avanti ma fa paura ancora tutto quanto Real Madrid, Real Madrid, state accorto a te Real Madrid, Real Madrid, state accorto a te Olè, forza Napoli! Grandissimo! Che io sono un tifoso del 53 con Maradona 3, due scudette a Gvist e io terzo vorrei avere con Insigne, Mertens e Cagliecon una di trent'anni non voglio aspettare perché non so se si stucca ancora qua. Grazie! Bene, è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie come sempre per essere stati con noi arrivederci alle prossime edizioni vi ricordo l'indirizzo mail cui potete scrivere redazione Chiocciolatelemonero.it Arrivederci! Grazie a tutti!